Per imparare le virtù di Maria è importante conoscere Maria. E qual è il modo migliore per conoscere Maria? Leggere la scrittura, leggere quello che i Vangeli ci raccontano di lei. Soprattutto il Vangelo di Luca nei primi capitoli ci racconta tutto il discernimento vocazionale e la maturazione di fede di Maria. E poi abbiamo anche il Vangelo di Giovanni con i due episodi molto importanti di Cana e della Croce. Quindi possiamo imitare le virtù di Maria se dedichiamo tempo a meditare, a contemplare quello che la scrittura ci racconta di lei.